E' terminata la partita Fuzz al Chiud'Uno contro PCG Vresso per i 32esimi finali nazionali dello scudetto Under 21. E' qua con noi Matteo Verzeletti del Chiud'Uno, mentre vediamo i suoi gol e le azioni della sua squadra e chiediamo lì un commento su questa partita. E' stata una partita difficile, sapevamo che era un avversario molto forte, però non siamo andati sotto fino all'ultimo, anche se poi ci sarà anche il ritorno, speriamo di recuperare questi tre gol. Grazie Matteo, ci vediamo domenica prossima per la partita di ritorno. Ciao, grazie. Ed ora siamo con il giocatore del PCG Vresso, Vignola Davide, mentre vediamo i suoi due gol chiediamo anche lui un commento su questa loro vittoria. Siamo riusciti subito a portarci in vantaggio, ma ci hanno appena sfortunato il tuo gol. Siamo arrivati sul 6-1 per noi, ma poi ci siamo lasciati un pochino andare e sappiamo che fosse una partita difficile, ma pensavo un pochino di meno. Ti aspettiamo al ritorno. Grazie Davide, ci vediamo domenica prossima. Salute a tutti, ciao Fuzzagord.